Senza una chiara unità di obiettivi politici, un'unica politica estera e di difesa che superi gli egoismi nazionali, non è possibile una Forza Armata Europea unica. La riflessione è emersa dal convegno Una politica di difesa per l'Europa, aspetti politici e militari, che si è svolto nei giorni scorsi alla Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino. L'evento è stato organizzato con il contributo del Consiglio regionale, attraverso la consulta regionale europea, da Università degli Studi di Torino, da Cultura Politica e Società e da ToyEurope, Centro Studi sull'Europa.